I ragazzi di APO, l'associazione benedica che si occupa di movimentare un po' la vita culturale del posto, ma a parte sono molto simpatici, mi sembra che abbiano una bellissima ispirazione, che condivido naturalmente perché i posti, la vita dei posti è strettamente connessa con l'evoluzione culturale. La questione della cultura credo sia principale nella società. Io vengo da un paese del sud, dalla Basilicata, ed è un posto che avrebbe bisogno, come tutti i piccoli posti, di accogliere eventi culturali. Grazie a tutti. Grazie a tutti.